2, 1, GO! Yes! Direzione? Malbacco! Eccoci! No, i ramboliti devono andare così! Vado a ruote! Vai! Vado a ruote! Ho ancora la nostra bozza! Ci siamo, eh! Vedrete la prima, non lo farò! Dai, dai! Grande! FATTO! Grandissima! Fate 40.000! Brava! Eccola! Buongiorno! Benvenuti! A Malbacco! Uno! Via! Vieni la ragazza rossinata! Dai! Vatti giù! E' un breve gusto! Santa Maria, ora! Dove si sta ora, eh? Vado! 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 Non fate la manichina! Puri sei impanato! e adesso se ne fanno un altro ragazzo si fa un altro bagnetto doppio secondo bagnetto e un bagnetto non bastava mica per i bagnetto brava brava yuhuu ahahah e abbiamo fatto fatti oggi e me lo segnerò l'orologio mi stava divertita oggi come dicevo prima il mio papo l'esperienza più bella non è vivere la esperienza ma è ricordarsela e ricordi dell'esperienza più bello ricordi? si vive di ricordi anche ma anche le esperienze fatte su un momento se non avessimo nessun ricordo e non facessero niente eh eh ma sta sul divano non si fa nulla bisogna correre non correre bisogna fare uno sport bisogna uscire e socializzare bisogna divertire con il bagno e poi il bagno fa fatti bello ahahah cioè perchè con il bagno ci si diverte cioè anche se fatti ma delle esperienze ci si diverte ahahah 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 un po' ora c'è lo scatto finale in piazza eh ci si ma tutta mi tanto ahahah 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 grande ahahah 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 um pesiz kinda man avut g